Ci rimangono pochi secondi, volevo un suo commento su San Michele, le elezioni sono sempre più vicine, l'accordo di appoggio esterno con le forze di centro-sinistra sta fallendo? Ma lì c'è la volontà probabilmente di chi è interessato ai metri cubi di riprendersi il Comune, noi faremo di tutto affinché questo non succeda, sia che si vada elezioni che non si vada elezioni, io spero che non si vada elezioni per il bene dei cittadini di San Michele. Adesso io non so a chi si riferisce, ma non sono i vostri alleati in regione questi. Un conto è la politica nazionale, regionale e provinciale dove riusciamo a fare politica con la P maiuscola. In San Michele no evidentemente. Localmente in tutti i comuni piccoli, ahimè, poi ci sono gli orticelli locali che non vengono gestiti e non riescono ad essere gestiti dalla politica.